Il Reo può, anziché pagare una multa, operare in un servizio in modo tale da poter dare un contributo economico indiretto per il danno che ha provocato. Io chiederò che venga a ripitturare lui le pareti che sono state imbrattate. E' questa la richiesta della sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli. La vicenda è quella della giovane Graffitaro, identificato e denunciato dalla Polizia di Stato. Il 25enne nel corso degli ultimi mesi aveva imbrattato numerosi muri della città con la scritta 21. Comune innanzitutto si definisce in questo momento parte offesa perché una parte dei suoi edifici di proprietà sono stati imbrattati da queste scritte ricorrenti. Pertanto dal momento che adesso abbiamo il responsabile e che nei confronti del quale si procederà, noi chiederemo il ristoro di quanto ci costerà far risistemare tutte queste pareti imbrattate. Ovviamente le scritte non hanno riguardato solamente luoghi pubblici ma anche tanti palazzi privati. I proprietari degli immobili imbrattati adesso potranno sporgere querela in questura ad incastrare il giovane Graffitaro le immagini delle telecamere di videosorveglianza di un distributore di benzina alle porte di Arezzo finito nelle sue mire. Nel corso della perquisizione nell'abitazione del 25enne lo scorso lunedì erano state ritrovate numerose bombolette spray, alcuni bozzetti ed infine articoli di giornale che lo riguardavano. Io spero veramente che questo al di là della posizione della persona che ha fatto quest'operazione serva un po' da monito, le pareti pubbliche e private che siano non vanno imbrattate.